Nuova alleanza fra sindacati e associazioni di categoria sugellata dal patto territoriale per l'occhialeria. Un documento nato con l'obiettivo di accompagnare e governare la profonda evoluzione che sta attraversando uno dei settori strategici dell'economia bellunese. Nove i temi al centro del confronto derivante dall'intesa siglata da Confindustria Belluno Dolomiti, Confartigianato Belluno, Appia CNA, CGL Cisle Will Territoriali e le federazioni di categoria Filctem, Femca e Wilte. Ossia la gestione delle crisi e degli ammortizzatori sociali, l'analisi e la crescita delle competenze, i giovani, la filiera, il lavoro femminile, la parità di genere, l'organizzazione del lavoro, gli strumenti di conciliazione, la salute e la formazione. L'accordo prende le mosse dall'analisi dei cambiamenti che stanno interessando l'occhialeria, in primis la trasformazione digitale e la nascita di nuovi player. Sullo sfondo riferiscono i promotori due problemi che da sempre condizionano e rischiano di pregiudicare la competitività del territorio, ossia l'inadeguatezza delle infrastrutture e lo spopolamento. Un'apposita commissione di consultazione, composta da sei membri rappresentanti a entrambe le parti, vigilerà sullo sviluppo puntuale dei vari temi, assicurando il monitoraggio costante sull'andamento del settore. Il patto, spiegano le organizzazioni sindacali, è la naturale prosecuzione del confronto fra le parti avviato per affrontare alcune grandi crisi del passato, proseguito con gli stati generali e caratterizzato da un sistema di relazioni industriali sano e focalizzato su un obiettivo comune, quello di gestire la tenuta e lo sviluppo del settore. Siamo convinti, continuano le organizzazioni sindacali, che oggi più che mai serva uno sforzo comune da parte di tutti i soggetti coinvolti, parti datoriali e sindacali, scuole, istituzioni, politica, per tradurre concretamente gli obiettivi del patto in azioni e progetti. Dal canto loro, le rappresentanze datoriali dichiarano che il patto certifica una visione comune rispetto alle grandi sfide del territorio e del settore, alla richiesta di investimenti significativi in infrastrutture materiali e immateriali e alla necessità di accrescere l'attrattività della provincia, si affianca l'esigenza di individuare soluzioni comuni per accompagnare la crescita del settore occhialeria.